io sono schifato io sono schifato sono schifato perché la colpa lo sapete di chi è la colpa di questa sconfitta io sono uno che le cose le dice la colpa è di quell'allenatore di merda che sta in banchina perché io già lo dissi l'ho detto nella conferenza stampa ieri dissi ma come mai Nathan non lo fai ancora a giocare stiamo andando avanti con Juan Jesus con Juan Jesus con Juan Jesus con Juan Jesus e tu da Kim basta Juan Jesus c'è qualcosa che non va c'è qualcosa e Cristo e Dio non funziona mannaccio Gesù Cristo mannaccio i morti chi da morti c'è qualcosa che non funziona se tu che Nathan non lo fai ancora a giocare che cazzo le cazzo da fa Nathan che cazzo le cazzo da fa squadra sul piano atletico disastrosa vaiù disastrosa il primo tempo il primo tempo pareva meglio una non ha po' le spallette il secondo tempo pareva una provinciale vaiù una provinciale ma di che cazzo vuoi parlare è meno male sto bar perché sennò io vi ho pigliato 4 pulpette 4 ne vi ho pigliato stasera avevo preso 4 pulpette questa sera io vi ho pigliato 4 pulpette e gli ha giurito io l'ho detto sul gruppo telegram io l'ho detto sul gruppo telegram io l'ho detto sul gruppo telegram guardate che la Lazio viene a Napoli e vince come l'anno scorso la lezione dell'anno scorso non l'avete ancora imbalata vaiù quara involuzione totale di quara cucchia la merda che sta in banchina vaiù prepariamoci questo sarà la rovina del Napoli questo allenatore qui sarà la rovina del Napoli e la colpa è di Aurelio De Laurentiis la colpa è di Aurelio De Laurentiis vaiù la colpa è di Aurelio De Laurentiis perché è una società ridicola ridicola che si è fatta prendere per il culo dalle altre società da tutto il mondo stiamo arrivati fino in Arabia a fare figure in merda tu quest'anno dovevi riconfermare lo scudetto hai fatto una squadra che fa schifo Pakistan perché non mi puoi dire che Nathan sia meglio di Kim o addirittura come io posso capire che sta facendo capicarsi che Nathan fa schifo perché stiamo inguaiati stiamo rovinati e quando io dissi questo è un mercato da due da due hai fatto la stessa cagata che ha fatto il Milan l'anno scorso non andando a comprare i giocatori perché tanto ci abbiamo ci abbiamo Kvara ci abbiamo Simen ci abbiamo tutti ci abbiamo tutti che cazzo compriamo a fare questo ti meriti questo ti meriti questo ci meritiamo quest'anno quest'anno ci meritiamo questo quest'anno dobbiamo soffrire quest'anno dobbiamo soffrire chi si fa a pigliare Garcia per non spendere i soldi per un cazzo di allenatore per un cazzo per non spendere i soldi per un allenatore buono si fa a pigliare Garcia Garcia può dare può continuare il gioco di spalle ma cazzo è da continuare Garcia ma che cazzo è da continuare che è stata in Arabia Saudita ma che cazzo deve continuare Garcia Che cazzo continua che sia? Un allenatore di merda che viene dall'Arabia Saudita Ma che cazzo ha fatto in Arabia Saudita? In Arabia Saudita? Che saluto ha pieno in Arabia Saudita l'allenatore? Cioè ragazzi ma ci rendiamo conto? Ma in che cazzo di mani ne abbiamo messa questa squadra? La squadra campione d'Italia Ma che cazzo dobbiamo fare più? Ma cosa dobbiamo fare più noi tifosi? Hai fatto la stessa partita dell'anno scorso T'hanno ingabbiato Chissà hanno fatto tutti i rapporti, tutti i gol E meno male che stavo fuori gioco perché E se no erano quattro pupette Erano quattro pupette Ma aspetto quelli su Youtube Sì ma è più forte Siamo i più forti Quelli che sono passati a chiagni Perché da chiagni perché se no non fa audience Cioè ragazzi ma di cosa vogliamo parlare? Continuate a leccare il culo a questa società A questo presidente E questi saranno i risultati Iscriviti al canale sempre e comunque forza Napoli Che a differenza di quegli altri Quando Napoli stavi in serie E io mi ricordo buono Ma che cazzo ne sapete voi? Voi miliardi di iscritti Ma che cazzo ne sapete voi? Sì ma che cazzo ne sapete? Io non mi fai più parlare Che se no mi ballano il canale Ciao agliù Sì ma che cazzo ne sapete? Ciao agliù